Il coaching è uno strumento essenziale a supporto dei processi di trasformazione digitale delle organizzazioni. La tecnologia sta portando radicali cambiamenti nel modo in cui funzionano le organizzazioni. Il digitale influenza gli stili di leadership, influenza il modo in cui le persone collaborano tra loro, influenza il modo in cui le aziende oggi fanno recruiting. Di conseguenza oggi è fondamentale saper utilizzare al meglio quegli strumenti che consentono di far emergere quel potenziale digitale che oggi è fondamentale per ogni organizzazione che vuole avvalersi delle nuove tecnologie. Nell'ambito di questo cambio di scenario che riguarda tutte le organizzazioni e gli ambiti professionali cambiano le competenze e per cui l'approccio di coaching diventa fondamentale. L'approccio di coaching vuol dire sviluppare intelligenza emotiva, sviluppare un ascolto molto profondo e quindi riuscire a fare delle domande che scardinano le resistenze dell'interlocutore e che ci permettono di accorciare le distanze. Per cui cambia la capacità di essere efficace, autorevole, cambia la leadership all'interno di qualunque tipo di contesto e di relazione. Questo tipo di competenze diventa ancora più sofisticato nell'ambito della trasformazione digitale appunto. Nel corso del master andremo ad allenare queste nuove competenze, le andremo a sperimentare, andremo a toccare con mano gli strumenti che la trasformazione digitale oggi ci mette a disposizione, per cui anche legando le nuove scoperte neuroscientifiche sperimenteremo strumenti di intelligenza artificiale e realtà aumentata che potenziano ulteriormente le abilità di coaching.